In Italia vi sono 10 milioni di incidenti domestici ogni anno ed almeno il 20%, cioè 2 milioni, sono causati da serramenti di vario genere, tra cui i cancelli automatici. Molti di questi incidenti sono mortali se la vittima è un bambino. Oggi parliamo quindi di sicurezza e di cancelli automatici di ogni tipo, che spesso, anzi quasi sempre, non garantiscono la massima sicurezza. Ingegner Pace, cosa dicono le norme vigenti? Vengono osservate? La normativa del 2008 ha previsto delle correzioni molto importanti e se noi guardassimo con attenzione i cancelli che sono attorno a noi, ci accorgiamo che questi cancelli assolutamente non seguono questa direttiva. E poiché sarà responsabile il condominio, il proprietario del cancello automatico o il privato, sarebbe preferibile che il consumatore osservasse qualche regola. Molto semplice, non è necessario essere dei tecnici per essere acuti. Il consumatore potrebbe attraversare il suo cancello durante l'apertura o la chiusura e guardare se il cancello si ferma e non deve avanzare se rileva che c'è un oggetto davanti alla sua fotocellula. Ma immaginiamo che ci sono casi in cui i bambini, giocando, scavalcano la fotocellula. La fotocellula non rileva il passaggio della persona e pertanto il cancello continuerebbe ad aprirsi o a chiudersi. Il consumatore può cercare di trattenere l'apertura o la chiusura del cancello. Dopo alcuni istanti, quando la forza raggiungerà un picco, il cancello dovrà fermarsi. Se queste piccole regole che può verificare il consumatore sono rispettate, molto probabilmente siete all'interno di una fascia di sicurezza. Ma chi è che avvalerà la sicurezza sarà il vostro tecnico di fiducia, le manutenzioni periodiche, una certificazione dell'impianto elettrico e tante altre cose. Come potete notare, vi stiamo anche facendo scorrere quelli che sono i riferimenti legislativi in materia di sicurezza. Ma contattate un vostro consulente che possa stabilire se il vostro cancello, anche dopo N anni, è ancora al sicuro. Oppure sarà sufficiente aggiungere o ritoccare qualche particolare per farlo rientrare in sicurezza. Abbiamo ricevuto anche una segnalazione molto curiosa, dove c'era una persona che aveva un cancello automatico. Questo cancello automatico che funzionava regolarmente ha creato un danno ad un'automobile che lo attraversava. E poiché il titolare del cancello automatico sosteneva che nei dieci anni di esistenza di questo cancello automatico mai nessuno aveva ricevuto un danno, probabilmente era stata l'incuria dell'automobilista che attraversando il cancello durante la sua apertura o chiusura aveva ricevuto il danno.